Passiamo al prossimo sorteggio e scopriamo chi sarà a sfidarsi. Quindi partiamo con la nostra slot machine, andiamo. Manuela Villa! Manuela Villa! Benvenuta! Eccola qua, prego, accomodati. Ha visto la foto e giustamente ha detto una volta. Una volta! Che sfida! Che sfida! Andiamo un po' a vedere di chi si tratta. Eh, qui insomma si fa dura, eh? Manuela Villa! Vieni! Manuela Villa! Ma scusate, non so cantare! Due belle donne! Manuela Villa con... Nicola Maran! Nicola Maran, prego! Giorgia! Che succede? Apriamo? Scusa, ero vicino le rose. Eh, lo so, lo so, va bene. Allora, te ne votate, quindi chiamate. Naturalmente codice 5 per il raccomandato di Manuela Villa. Sì. Codice 6 invece per il raccomandato di Miriam Leone. Ricordiamo il numero? D'accordo 894-424 da telefono fisso oppure 48444 con sms. Bene, via il televoto! Via! Via! Per Nicola Maran, raccomandato da Miriam Leone! Siete buoni con Nicola, eh, per favore. Allora. Un po'. Prima di tutto dobbiamo dire... Quale donna si è poggiata sopra la tua giacca? Sei tutto sporco di trucco. Ecco, puliscimi, puliscimi, puliscimi. Ma pulisciti, puliscimi. Tu lo puoi fare, tu lo puoi fare. Senti Miriam, tra poco comincerà dopo i raccomandati che, lo dico ufficialmente, andremo avanti grazie al successo che voi pubblico avete delitato per questa televisione. Andremo avanti per due puntate anche dopo il Festival di Sanremo. Grazie, grazie. Vero, vero? Sì, è vero, è vero. Ah, ah, non sapevo. E dopo comincerà ciò che si canta condotto da Pino Insegno e Miriam Leone. Che ciò che era ma non canterà più, ve lo prometto. Detto questo... Detto questo parliamo del tuo raccomandato, di Nicola Maran. Come l'hai visto? Ti sei subito... Cos'è stato un colpo di fulmine? Sì, perché lui ha tutto capito, questo cantante è confidenziale, sai come si dice? Swing. Swing, siamo molto curiosi. Something stupid è quando, quando, quando. Nicola Maran, raccomandato da Miriam Leone. No, è lui che raccomanda me. Vai. I know I stand alive until you think you have the time to spend the living with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be living with me. Then afterwards we drop into quite a little place, I'll never drink or two. And then I go as spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes. I can see it in your eyes that you despise the similar lies you've heard the night before. And who has just a line to you for me, it's true that never seemed so right before. I practice every day to find some flavor lies to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, you're perfect, it's my heart, the stars get ready, no, the night's so blue. And then I go as spoil it all by saying something stupid like I love you. And then I go as spoil it all by saying something stupid like I love you, it's my heart, the stars get ready, no, 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 the stars get ready. And then I go as spoil it all by saying something stupid like I love you, it's my heart, the stars get ready, no, 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 the stars get ready. And then I go as spoil it all by saying something stupid like I love you, it's my heart, the stars get ready, no, the stars get ready. Non ci lasceremo mai Se vuoi dirmi di sì Devi dirlo perché Non ha senso per me La mia vita senza te Mi quando occuperai Devi quando, quando, quando Ma quando, ma quando Passando mi dirai Non ci lasceremo mai Non ci lasceremo mai Miriam Leone Nicola Madal Eh beh, raccomandato Perdonatemi Dammi la Leone, no, va bene Va bene, prego, prego Allora, venite Manuela, venite, venite Valeria Mentre stanno televotando Dimmi quando tu verrai Dimmi quando, quando, quando Allora Due curiosità sui nostri comandati Una curiosità è solo dire che Io e Manuela abbiamo iniziato insieme Sono felice di trovarti qua Grazie Cosa facevi insieme? Abbiamo debutato insieme nello stesso camerino No, nello stesso camerino No, nello stesso camerino No, capito No, lo stesso Condividevamo Lo stesso camerino sul palco centro del bagaglino Ah, ecco, no Spieghiamo bene le cose Spieghiamo bene le cose Va bene, ok Allora Mentre Invece ho saputo che tu canti coi gatti, cani Sì Cioè il tuo pubblico ti fa Ti alleni di fronte al tuo gattino No, io Vai allusivo Scusa, Valeria Canta con i gatti e con i cani No, aspetta E poi ha cantato con Mila e Leone Ma insomma Non ti dico queste cose Si è allenato Scusa, Valeria No, no Si è allenato Si allena a casa A cantare di fronte al suo gatto Al suo cane Così Poi c'hai 40 pesci che rottono nell'arquario Sì, è vero, è vero Ma come fai a sapere tutte queste cose, Valeria? Pronompente Allora, adesso stop al televoto, Valeria Dai Vengo da te Stop, stop Stop Allora, stai qui con me un attimo Sì Perché dopo lo stop c'è Miriam Sì Che lei è una testimonia, una cosa molto seria questa Una testimonia dell'AIRC E deve fare un annuncio importante Miriam, a te la telecamera Domani riprende, ricomincia la campagna dell'AIRC Le arance della salute Con un sacchetto di arance siciliane di 3 kg Una piccolissima offerta Una piccolissima donazione Possiamo tutti aiutare la ricerca Perché il cancro non è incurabile Allora l'AIRC ricerca Noi aiutiamo l'AIRC con un piccolo gesto E l'AIRC aiuterà noi Brava Miriam Comprimi Prego Valeria Allora, adesso torniamo alla gara La busta è pronta E siamo anche noi Anziosi di sapere Chi è il terzo O E beh il terzo Perché sono due raccomandati maschi Il terzo Semifinalista Arriva la busta Sempre con quella Con quel non so che Che mi mette un po' in agitazione In fermento Mi fa stare Sempre lì Sulle spine C'è poco da ridere Sai Momento di tensione Smettila Smettila Dai Uriamoci invece Dai Sitalia E Attenzione Ora non si scherza più Miriam Leone E il suo raccomandato Io ma smetto O Manuela Villa E il suo raccomandato Trattasi di Gianluca Paganelli E Nicola Maran Ecco, vedete Nicola Maran Adesso vedete Gianluca Paganelli Con Manuela Villa Va In semifinale Gianluca Paganelli Raccomandato Con Manuela Villa Eh ragazzi Grazie Giulia Prego Sei Prego Accomodati E adesso Velocemente Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.